Ciao a tutti ragazzi da QFARMER e benvenuti sul mio canale siamo su Farming Simulator 19 sulla Plea Sun Valley County e oggi andremo a fare la trebbiatura del riso con la nostra New Holland la CR 10.90 è una mod, questa qui è una metri trebbia una mod che contiene 150.000 litri siamo al campo 92 nella zona alta della mappa ok gli spieghiamo e cominciamo la trebbiatura del riso la passiamo ok vi faccio vedere anche un po' di panoramica un po' di guida all'interno oh cos'è che ho combinato ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cominciamo a fare il primo carico, il primo scarico. A dopo ragazzi. Eccoci qua ragazzi, ritornati. Facciamo il primo scarico di trebbia. Grazie a tutti. Ok ragazzi, la trebbia si è fermata, vedete. Ovviamente ho messo l'operaio. Adesso scarichiamo qua il primo carico. Grazie a tutti. Ok, siamo pieni. Andiamo a scaricare. Vediamo anche come scarica qua. Ok. Ok, è un po' lento come velocità di scarico. Vabbè dai, io faccio un altro piccolo stacco e noi ci vediamo quando abbiamo finito. Ok ragazzi, ho ripreso in mano io la situazione qua. Così almeno trebbio un po' anche io. Vediamo un po' qua. Allora, vediamo se riusciamo a usare il jousting. Allora, vediamo se io metto la velocità. Allora, vediamo se io metto la velocità. Siamo al 67%. Siamo al 67%. Eh, con questa trebbia qua non ci impieghiamo tanto a farlo. vediamo. Vediamo come si mette. Estendi condotto. Ok. Adesso vediamo per farla partire. Accendi metti trebbie. Andiamo a scaricare un po' la trebbia. Si è già un po' il girt, si è un po' già sporcata la trebbia, vedete. Poi ovviamente se al termine dello scarico è pieno manderemo l'operaio ancora avanti a trebbiare e lo andiamo a scaricare. Ok. Allora, abbiamo scaricato qua. Vedo che continuo a scaricare. Non è ancora pieno il camion. Perché se era pieno la trebbia smette di scaricare. Ecco. Ok. Vedete? Chiudiamo il condotto. Ok. Andiamo a scaricare. Comunque vi invito a passare sul mio canale Twitch. Link in descrizione. Azionate il cuoricino. Così almeno potete vedere quando vado in live. Faccio live su Twitch. Però aspettate un secondo che... Che cavolo sono andato a finire qua. Ok dai ragazzi. Faccio un altro... Un'altra piccola pausa. Nel frattempo che lui scarica e poi ci vediamo per i saluti. Si. A dopo ragazzi. Ok ragazzi. Ecco qua l'ultimo carico. L'ultimo scarico della trebbia. Dove cavolo sto andando. Abbiamo terminato il campo 92. Prena. Ok ragazzi. L'ultimo scarico. Credo che non ci metterebbe... Non ci impiega tanto. Ovviamente sono con le stagioni. Siamo al settimo. Quasi alla fine di autunno. Meno 811 pagamento salari. Ha... 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 Quasi finito. 53%. Ehm... Eccoci qua. Abbiamo quasi finito. Abbiamo scaricato. Ok. Portiamo il camion qua. In farm. Va bene ragazzi. Noi... Noi dalla Cotton... Dalla Black... Botton. È tutto. Noi... Io vi do appuntamento. A un prossimo... Un prossimo video. Ehm... Metterò in descrizione. Il link di Discord. Dove potete... Ehm... Interagire con me. Ehm... Lo metterò in descrizione. Grazie a tutti. Ciao. E alla prossima. Alla prossima. Ciao.